Allora, buongiorno, buon 2 maggio. Faccio questo breve video per fare un ragionamento anche per rispondere un po' ad Andrea Scanzi, che è un giornalista che stimo, però l'ho seguito ieri sulla sua diretta delle 7 che ieri sera anche ad Accordi e Disaccordi. Quando arriva quel passaggio che, visto le cose incommentabili che fa Renzi, non trovo neanche un aggettivo adatto perché li ho finiti tutti, e allora sembra che Renzi possa far mancare la maggioranza a breve o molto presto perché da segni di squilibrio. Quindi, come avevo pensato anch'io, anche Andrea Scanzi si porta avanti e pensa che potrebbero arrivare delle forze esterne al governo che sostengono la maggioranza, lui cita alcuni del gruppo misto, ex grillini, insomma, di tenere su una maggioranza onde dovessero andare via quelli di Italia Viva, giusto? Specialmente al Senato, dove i numeri sono più risicati. Quindi cosa voglio dire? Può darsi che questa pattuglia di ex grillini potrebbe riconfluire nella maggioranza e praticamente dare sostegno. Ma i numeri, secondo me, mancano. Io adesso paventavo quelli di Forza Italia, magari anche una pattuglia, queste pattuglie di responsabili che manda Berlusconi. Vi sembra tutto normale? perché secondo me Scanzi non guarda un dettaglio. Perché Berlusconi ti manda questa pattuglia qua? Perché è responsabile? Perché non lo dice mai? Non dice mai il perché vero del perché Berlusconi manda queste persone qua? Perché secondo me, quello che ho capito io, è che mai come adesso c'è un sistema che potrebbe crollare, sia economicamente che anche a livello proprio di crisi di sistema. Quindi Berlusconi, che interesse ha che la pianta caschi per terra? Lui è stato uno dei maggiori artefici, anche con la sinistra, sempre bene ricordarlo, di questo problema del debito pubblico. Quindi dal mio punto di vista, e Scanzi ancora non l'ha mai citato, Berlusconi si offre perché ha paura che caschi la pianta e un parassita per succhiare la pianta ha bisogno che stia in piedi. Perché se la pianta crolla, il parassita va per terra e viene mangiato dai vermi. Capite? Allora, io leggo un po' più di responsabilità per un suo tornaconto personale nei confronti di Renzi, Salvini e Meloni che pensano di non avere a che fare niente col debito pubblico quando invece sono responsabili. Quindi da quel punto di vista di Berlusconi sono irresponsabili. Capite? E siccome Renzi è un pazzo, chissà cosa c'è in testa, ecco che Berlusconi viene in soccorso e il 5 Stelle governerebbe con una pattuglia di forzisti? Ma poi ammettiamo anche che ingoiamo sto rospo. Un'altra cosa che non dice Scanzi è che ci sarà da votare della roba e che nessuno tiene presente. Perché ho fatto anche un sondaggio io nel mio gruppo e praticamente risulta che nel caso che dovessero arrivare pattuglie di Forza Italia, tu come la pensi sul governo e oltre 700, scusate un attimo, 776 persone hanno detto sì è importante che il governo vada avanti, 219 dicono no sarebbe inaccettabile, 32 non so. Ma queste persone qua che magari dicono vabbè ormai il governo deve andare avanti, lo capite e anche Scanzi non l'ho mai accettato, non capisco perché. Ci sarà da votare il testo che arriva dall'Eurogruppo e cosa pensate che siano rose e fiori quella roba lì? Anche te Scanzi scusa un attimo, abbi pazienza, questa roba qua non è un dettaglio. Quello che arriverà dall'Eurogruppo, da come lo dice anche Ignazio Corau che ha scritto a che prezzo e da come riportano alcuni quotidiani di economia e come comunque sembra anche la trattativa, se ti danno quel recovery fund ci saranno degli obblighi, degli impegni, non li voglio chiamare condizionalità, ma sicuramente quella gente che ti dai soldi vuole che l'Italia abbassi il proprio tenore di vita, cioè non si può vivere sopra le proprie possibilità per 25 anni, aver accumulato debito e poi ottenere comprensione dai paesi del nord dopo 25 anni che ti dicono fai delle cose e non l'hai mai fatta, specialmente la leva del debito è sempre stata alzata, quindi è ovvio a questo punto, prima dicevo che è ovvio che arriveranno anche delle porcherie lì dentro da dover votare, allora io racchiudo un po' tutto, anche al signor Scanzi e a tutti questi iscritti che hanno votato così, ma per carità ognuno è libero di pensarla come vuole, però io aggiungo questo elemento perché ne Scanzi e forse neanche voi l'avete capito che ci sarà da votare, anche delle schifezzine, forse schifezze e forse schifezzone, perché non si sa la quantità di quanto può essere il bianco è il 100% che Conte ha preso il recovery fund a fondo perduto, il nero è che non ti hanno neanche dato i soldi perché non vogliono fare un debito comune, ma potrebbe essere grigio scuro, grigio più chiaro, sempre fino alle tonalità del bianco, quindi lo spessore di quanto hanno trovato un accordo, non lo sa nessuno perché lo stanno ancora contrattando, ma voglio dire, quindi la morale è, il 5 Stelle va avanti con pattuglie di Forza Italia, ma anche fosse uno solo, non è che conta molto, basta anche uno solo, con questo gruppo misto tutto raffazzonato al Senato per votare, compreso il 5 Stelle, per votare questi soldi, questi finanziamenti, questi strumenti che poi però secondo me, come ho spiegato prima, ci saranno anche degli impegni, degli obblighi, delle condizionalità e chissà che cos'altro e diventi impopolare, perché poi la riforma Fornero la gente se la ricorda dopo anni, anche noi andiamo a rompere il cazzo a chi ha votato questo e a chi ha votato, e quindi ti vai a sporcare le mani per stare al governo con uno di Forza Italia per fare dei tagli per i casini combinati da quelli, ma scansi, ma cosa state dicendo tutti quanti? Scusate un attimo, abbiate pazienza, questa è la mia osservazione, cioè io in tutta questa roba qui vedo che molta gente si sta dimenticando qualcosa, forse non è chiaro da dove stiamo andando a finire, va bene? Quindi se qualcuno ha da dare dei, se qualcuno ha da obiettare qualcosa in quello che ho detto, io ho cercato solo di dipingere un po' meglio il quadro, solo questo mi sono permesso, poi è giusto che ognuno pensi quello che vuole e fate esattamente quello che volete, dovesse andare che andresse così e qualcuno è favore o contro, per me non c'è problema, io non è che dico avete sbagliato, io ho soltanto cercato di colorare un po' il quadro, specialmente al signor Scanzi che non capisco come faccia a non inserire in tutto suo sto ragionamento, prima le sette e poi ad accordi e disaccordi, anche questa cosa della lei, di questa cosa che sta contrattando Conte, che sta portando in Parlamento e che poi sarà votata e che non è sicuramente un dettaglio. Grazie.